Buongiorno a tutti, domani conferenza dei servizi, finalmente si parlerà di Stadio Regione. Spero che tutti affronteranno il problema in maniera tranquilla, serena e oggettiva, ricordandosi che è uno dei progetti più importanti che si siano mai realizzati in Umbria, anche da parte di un privato per tutta la comunità. Circa 70 sono i milioni messi in campo e non sono pochi. Spero che tutti si metteranno una mano sul cuore e faranno la cosa migliore. Buona giornata a tutti di riflessione. Grazie.